Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al km 276 in direzione Bologna si registrano 9 km di coda tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico. Si segnala inoltre che stanotte per lavori di potenziamento e ammodernamento dei palli della luce in orario 22.6 rimarrà chiuso il ramo di immissione sulla 11 verso Firenze Ovest per chi proviene da Roma. Passiamo sulla FIPI lì dove ancora a causa del traffico intenso in direzione mare si registrano code a tratti tra Scandicce e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze per lavori di allaccio alla rete idrica in via delle Panche a partire da oggi fino al 26 ottobre di vieto di transito tra via di Quarto e via Calo. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!